Ehi la ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, eccoci qui oggi con TIF Simulator 2, sicuramente ne avrete sentito parlare così anche come l'avrete già giocato. Io infatti ragazzi ho giocato già il primo TIF Simulator, soltanto che mi vorrei concentrare anche sul secondo capitolo. So che questo qui è molto più infognante rispetto al primo, infatti già ho giochicchiato giusto un attimino così per cercare quantomeno di capire come funziona. In pratica ragazzi le funzionalità sono proprio come il primo TIF Simulator, soltanto che quest'oggi ragazzi proviamo il secondo capitolo. Dunque ragazzi, allora detto questo facciamo gioca. Allora qui se vedete continua, perché comunque volevo vedere un attimino sia il gioco che anche come andava in prestazioni game. Detto questo, bando alle challenge facciamo inizia una nuova partita. Dunque allora esegui il backup, quando inizia una nuova partita quel salvataggio verrà sovrascritto. No, non voglio fare il backup. O lo devo fare? Ah no vabbè, mi sa che lo devo fare per forza di cose. Va bene dai, comunque allora ragazzi facciamo una partita facile. Non ce l'andiamo a complicare perché onestamente ragazzi non so nulla del titolo e quindi meglio non andare a strafare a riguardo della difficoltà di gioco. Dunque allora il livello di difficoltà è per le persone che vogliono godersi la parte del furto senza preoccuparsi troppo di essere beccati. Questo già fa per noi. Infatti abbiamo la modalità libera e la modalità storia. Andiamo giusto con naturalmente la modalità storia. Ok allora devo dire ragazzi un caricamento un po' troppo lungo. Dunque allora numero privato. Allora stanno arrivando chi? Però aspetta, controlla la visualizzazione di sicurezza. Ah ok benissimo, allora abbiamo tre uomini. Questi qua li prendi però damose. Dunque l'obiettivo è questo qui. No. Ok. Scusate ma mi ero impantanato. Allora una torcia, una chiave e un pietro di porco. Allora spegni la luce. Damose. Left shift corri, va bene. Apri. E damose. Ok allora fin qua ragazzi tutto quanto bene. Tutto quanto bene abbiamo anche il nostro pick up. Dunque allora entra. Aspetta che non si vede niente. C'è i due paretti sparati in faccia. Madison Street. Ok. Ok dunque allora sta avanzando il tempo. Naturalmente ragazzi siamo su PC eh. Dunque allora rispondi. Vediamo un po'. So you're in some deep shit. It took long enough. Look you're my friend and all. I'll help you get out of this mess. But not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people. Break into a couple houses. And then you get my help. How's that? For starters I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Allora dobbiamo entrare nel 102. Recuperare un po' di roba. Ehm per poter salire di livello. Allora scusate qui non posso entrare però posso entrare di qua. Ehm sì. Ok. Dunque. Ehm vi si considerate casa abbandonata. Non c'è sta nessuno. Quindi entra. E chiuditi la porta alle spalle. Ruba questo. Dovrebbe essere credo la chiave del. Ehm della porta. Quindi del cancello. Questo. Questo. Allora qua ci possiamo. Nascondere sotto il letto. Se magari. Viene qualcuno a trovarci. Un po' di money. E qua nient'altro. No aspetta si. Nient'altro. Ehm qua invece. Non lo so. Della biancheria no? Pensavo che potessimo rubare anche. Della biancheria. Però no. Ok. Allora apri. Qua niente. No scusi. No scusi eh. Aspetti. Altri 30 dollaroni. Apri. Apri. Delle scarpe. Niente. Dei peluche. Ah guarda qua. Una bella radio. Very nice. Time to sell this stuff. So you can pay me brother. Drive the crazy joe's pawn shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Numbers 115. Però aspetta. Viste considerato che ci siamo? Perché non approfittarne no? Eh scusate. Ormai ci siamo. Facciamo man bassa di... Sento fischiettare. Sento fischiettare. E dove vai? Allora qua niente. Qua niente. In bagno? Della carta igienica? Ci potrebbe sempre tornare utile la carta igienica? Non lo so. Allora qua niente. Ok. Aspetta. No. Qui niente. Eh altre stanze? Nulla? Vabbè una bottiglia di vino. Ci potrebbe pure stare. Tostapane. Qua niente. Niente. Una teiera. Bene. Però non abbiamo più spazio nel... Nello zaino. Quindi. Bottiglia di vino. Pentola. No niente. Ok va bene. Comunque allora ci dice di andarcene e di arrivare al banco di pegni per poter andare a vendere tutta sta roba. Va bene va bene. Si può fare. Si può fare. Apri. Entra. Metti in moto. Ole. Dunque allora il banco di pegni me lo segnala sulla mappa. Che dovrebbe essere quello lì con il simbolo del dollaro. E infatti. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Occhio. Ma c'è possibilità di poter entrare? Ah ok. Perfetto. Andiamo. Ciao caro. Scusi eh. Dunque allora ti vendo questa, questa. Ok a posto abbiamo 1177 dollari. Allora impara l'abilità marcatura. Dunque abilità. Dovrebbe essere questo qui. Marcare. Evidenza gli inquilini guardandoli a imparare le loro routine. Impara. Diga. Allora vai al punto selezionato. Eh segnalato scusate. Alle 15 sono le 11 di mattina. Però mi sa che dobbiamo dormire. Si può dormire? Credo di sì. Forse magari in un'area di sosta. Di parcheggio. Allora aspetta. Accelera il tempo. Vediamo un po'. Dunque. Facciamo 13 direttamente. Ma si va. Dormiamo direttamente fino alle 13. Indietro. Metti in moto. E andiamo verso il segnalino lì. Al 103. Vabbè a parte il fatto che era pure vicino. Eccomi caro. Arrivo. Rispondi. Però aspetta. Non ci facciamo vedere. Ok. Marca l'inquilino del 103. Per imparare la sua routine. Ok. Ah ok. Allora. Entro in modalità pianificazione. Guarda l'inquilino. Marcato. Ah ok. 15-16. Dovrebbe essere credito in casa. Vabbè. That saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 pm. There's a problem though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you which will gain you some more experience. Allora dobbiamo andare al nostro nuovo nascondì. Ah ok. Quindi allora qua abbiamo pieti di porco, torcia, chiave del 102. E chiave per il cancello sul retro. Ah ok. Credo che questa qui dovrebbe essere roba mia. Allora entra vai. Dunque allora dobbiamo andare al nascondiglio ci ha detto. Ahia. Puri costi di riparazioni 33 dollari. Ammazza ue che è. Costano caro. Un attimo eh. Oh nascondiglio. Anche perché comunque mi aveva detto che alle 17 il tipo usciva. Quindi erano praticamente alle 14 e 30. E infatti. Non è buono questa casa? Solo pagami la renta settimana e tu sei bene. Quando hai qualche cash puoi fare riparazioni su casa renovator. Vai al computer. Allora dobbiamo usare il computer. Allora questo qui credo che dovrebbe essere compiute per il. Per l'hacking. Quindi per hackerare. Vai a dormire. Ok eccomi. Stil gear. Stil gear. Strumenti migliori che comunque sia. Costano anche di più. You can buy information about houses. Loot locations. Security cameras. Su Rob Tips. Etc. Gather all information about 102. Puoi acquistare informazioni sulle case. Posizioni. Dei bottini. Sistemi di sicurezza. Routine. Degli inquilini. Etc. Raccogli tutte le informazioni sul 102. Ah ok. Quindi allora costa praticamente zero. Ok. Controlla il Black Bay. E lì puoi vendere gli oggetti che hai rubato. A volte offrono. Ah ok. Quindi allora. Black Bay. Ah no no. Possiamo ancora andare nel Black Bay. Allora. Come ho detto prima. Hai bisogno di più esperienza. Quindi. Accetti il lavoro al 102. Casa abbandonata. Accetta. Oh cavolo. Eh vabbè. Distrugge alcune cose. Benissimo. Perfetto. Si inizia bene. Allora. Servizio auto. Madison Street. Allora. Ho detto che dobbiamo andare al 102. Però dobbiamo distruggere alcune cose. Eh. Dunque allora. 101. Eccolo là. Il 102. Qui a sinistra. E poi dopo. Eccolo qua. Dunque allora. Qui mi dice di distruggere alcune cose. Però aspetta. Eh. Lascio oggetto. Com'è che lo faccio a mettere in mano il coso qui? Abbiamo un debito di quanto? 500.000 dollari? Madonna. Ammazza. E che è? Allora. Qua abbiamo praticamente la chiave. Sì perché. Se vi ricordate. Già siamo passati. Però aspettate. Non è che mo' magari c'è qualche cosa di nuovo. Da. Da rubacchiare un attimo. E infatti. Altri 15 dollari. Cioè che poi. Scusa. Sei una casa abbandonata. Com'è che ci fanno a mettere soldi dentro? Non lo so. Non chiedetelo a me. Non lo so. Altri 30 dollari. Ma secondo me dovrebbe essere il nostro amico che ci fa sti scherzi no? Allora. Visto e considerato che qua non abbiamo preso né la. La tegliera. Né la bottiglia del vino. E né questa. Beh almeno siamo tornati per un solo scopo no? Allora. Che devo fare? Distrugge alcune cose. Sbircia. No. Eh no. Aspetta. Piede di porco. Bottino. Strumenti. Eh. Ma com'è che lo faccio ad operare? Allora. Tutorial. Tutti i tutorial. Torcia. Ah. Premi F. Ok. Perfetto. Però per il piede di porco. Modalità pianificazione. Rende. Allora. Allora. Ah. Q scelta rapida. Eccolo qua. Perfetto. E questo l'abbiamo distrutto. Adesso vai qua. Qua niente. Toglimi i comandi. Che cos'è che devo distruggere qua? Forse è qualcosina lì. Allora aspetta. Dobbiamo distruggere il water. Bene. Dobbiamo. Distruggere dell'altro. Però non ho capito cosa. Perché mi sa che due. Sono. Anzi. Sono tutti e tre fuori. Ehm. Allora. Visto e considerato che qui. Ma non c'è più nulla. Aspetta. Abbiamo degli altri soldi qua. Bene. Una cassa. No. Vabbè. Ci abbiamo pure una cassa forte. Allora. Qua però mi dici ti. Ecco là. Missione completata. Rispondi. Allora. Aspetta. Damos. Togli qua. E hanno chiamato la polizia. Scappa o nasconditi. Allora. Nascondermi. È un po' troppo difficile. Però. Se potemo da. Aspetta. Che non vedo niente. Allora. Dato che la mola. Macchina mia. Sta là. Io direi. Di darci la gambe. No. Voi che dite? Eh. Ma. Darmi la gambe. Però non lo so. Perché sapete che cosa. Perché va a finire. Che questi qua. Ma me beccano. I polizia. Se mi beccano. So cavoli. Ma che stop. Stop. Damos. Che stop. Stop. Ahia. Questi qua sparano. Per ammazzarmi. E vabbè. Però. Con sto cavolo. De catorcio. Quando andiamo. Ma. Possiamo andare a vendere. La roba. Quella che abbiamo recuperato. Credo di sì. Aspetta. Mi posso nascondere qua. Biondo. Giusto due minuti. Ah. Non posso fare niente. Addirittura. Eh. Mi sa che dobbiamo aspettare. Nasconditi. Ok. Impara l'abilità. Lockpicking. Livello 1. Ok. Eh niente. It would be really funny if you got caught. A man escapes trained assassins. But he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience. Steal some more from 102. Ah. Benissimo. Allora. Vendi. Vendi. E vendi. Ok. Perfetto. Eh. Posso salvare la partita? Eh. Salva. Scusi. Buon uomo. Non posso salvare? Vabbè. Eh. Comunque ragazzi. Comunque. Allora. Giornata. Ah. Va bene. Impara l'abilità locking. Lockpicking. Eh. Dunque. Allora. Abilità lockpicking. Impara. Ok. Allora. Come posso tirare fuori il telefono io adesso? Occhiali per visione, torcia, accopacciati. Ah ok. Perfetto. Eh. Dunque allora. Naviga. Quick bay. Eh. Allora. Dobbiamo selezionare. Ma come carne per cani? Piede di porco. Piede di porco. Kit base di lockpicking. E questo mi pare pure giusto. Ok. Va bene. Dunque. Allora. Entra nel 103 e ruba il drone. L'inclina è fuori dalle 17 alle 21. Eh. È mezzanotte. Quindi mi sa che dobbiamo andare. Prima al 103. Occhio qua eh. Che fanno una botta. Allora 100. 106, 107, 105 là sopra. Allora prima di tutto però andiamo a dormire. Dunque allora mi ha detto dalle 17 alle 21. Quindi possiamo dormire fino alle 17. Madonna mia da mezzanotte fino alle 5 del pomeriggio. Madonna. Beh giustamente voglio dire non siamo dei ladri. Allora indietro. Occhio qua giovane con questo Land Rover. Dai eh che dobbiamo andare a 103 mi ha detto. E vabbè ma come cavolo ci faccio ad arrivare? Aspetta. Oh madonna mia ragazzi è buio ma non si vede una ceppa però eh. Ma come mi sto distanguando? Ma perché mi hanno beccato? Mi hanno ferito? Cavolo. E chi l'aveva capito? E io no. E ma come faccio a curarmi? Eh vabbè comprite il lavoro distrugge alcune cose. Va bene dai ragazzi allora io direi che per questo primo episodio della serie di Tiff Simulator 2 è tutto. Mi raccomando fatemi sapere anche la vostra acquistata qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere il video. Noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Noi ci becchiamo in un prossimo episodio.